Adesso ci vediamo un filmato di Dona Lee è in viaggio sicuramente per affrontare un match però fanno sosta, non si sa perché in una caserma, non si capisce se una questura o una caserma insieme a un suo sicario, così che lui li chiama Buona visione Buongiorno ragazzi sono qua nel treno andando verso la rotta del massacro perché non è uno sparring, è un massacro ho deciso di portare una persona con me per vedere tutto dal vivo, per vedere l'umiliazione dal vivo così mio fratello sente l'eccitazione sente quel gusto che l'avversario viene steso per terra senza parlare tanto, senza parlare proprio perché si è messo con le persone sbagliate i miei sicari non si toccano, oggi li faremo vedere quando un sicario di barriera di Milano va toccato la squadra è sempre all'attacco e gli diamo il succo di barriera il succo di barriera ora ci rivenziamo il portafoglio però se vuoi selfie devi fare sconto facciamo loro sempre gratis sempre con tanto pronto quanto viene? oh fratello mi devo vedere un cazzo basta che mi fai un video per i miei ragazzi va bene vai che grande non sempre affari bravo bravo stai dritto con questo stai dritto con questo culo eh mi hai detto con l'altro però devi stringere il culo non devi stare con il culo ah ok 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 visto tec non faccio hai la tecnica donnaio questo? guarda guarda si proprio quella si? no si è proprio quella e mentre noi siamo qua a rimanerci guardate il bastardo cosa sta facendo qua eh ma tu cosa fai qua? eh? sempre a fumare e a nasconderti eh fai bene a nasconderti lo bastardo